Chef D'Addio, dolce al salato non si smentisce mai, sarà una grande festa del panettone quella di oggi? La festa oggi in quanto anche quest'anno stiamo anticipando un po' quello che è il concetto di bello buono ma sicuramente quello della formazione, in questo caso ci rivolgiamo a tutti questi giovani che stanno qui per apprendere l'arte della pasta lievitata con tre grandi ospiti, docenti, accademici Aniello Di Caprio, Giuseppe Mascolo e Oscar Pagani, insomma due campani e un lombardo per trasmettere ai nostri discenti l'arte della pasta lievitata con il lievito madre naturale. Panettone, una vera eccellenza del territorio casertano a questo punto dovrei dire? Beh è diventato un po' come la pizza, la capitale come i grandi interpreti di questa pizza che oggi godiamo noi casertani, terri di lavoro, questo beneficio grazie al lavoro della ricerca e anche il panettone è arrivato il momento di questa grande eccellenza io dico sempre la pizza è il primo anello di una lunga catena il panettone essendo un grande lievitato completa un po' le competenze di questi addetti ai lavori casertani che oggi vincono le competizioni più importanti a livello mondiale e questo ci fa veramente piacere essere cittadini di terra di lavoro ma soprattutto rappresentare il territorio attraverso le nostre eccellenze, quelle casertane in tutto il mondo. Chef, che cosa ci aspetta? Ma un momento di gioia perché il panettone non è solamente buono ma è una gioia emozionale per il nostro palato è diventato un grande elemento di regalo natalizio e poi grazie alla competenza e alla capacità che Angela Lombardi ha insegnato anche a presentare il panettone, il packaging e tutti i colori di questo trend natalizio. Possiamo dire buon panettone a tutti? Innanzitutto buon panettone a tutti cercate bene di fare una selezione dei panettoni che quest'anno girano per il periodo natalizio durante queste festività ma dobbiamo avere anche la capacità di selezionare il panettone non solo fatto con la giusta competenza ma anche con una grande materia prima che deve essere una materia prima che il pasticciere deve selezionare per tirar fuori quel piacere che va oltre il buono e questo si può fare solo se non ci si accontenta e solo se si è dei veri curiosi ricercatori.